buonasera per quelli che non mi conoscono ancora mi chiamo Antonio Oliver sono venuto del Brasile abito a Milano da 28 anni e sono molto molto felice di essere un straniero e fare la moda a Milano sono molto onorato e contento di partecipare della rubrica di Jasmine Laurenti la mia carissima amica che mi ha dato questa opportunità di fare il bontom della moda ho avuto questa opportunità anche se già avevo pensato in avere un spazio dove potessi parlare di moda è la prima volta che posso dire quello che penso anche esprimere quello che è mio lavoro e è giustamente quello che faccio non sono qui per dire deve fare questo deve fare quello deve indossare questo o no al contrario ogni persona sa quello che le piace sai insolito quando una persona mi cerca da fare un abito e domando subito cosa cosa ti piace cosa possiamo fare è una idea perché non posso dire io devi fare questo abito perché ognuno sa quello che vuole auguro a tutti una buona serata un bacio a tutti